E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef, e che sei giochi ma? Can you escape? E siamo tornati con i giochi per cellulare Questa volta, ovviamente, come da nome Faremo degli escape In pratica, dovremmo cercare di superare I vari livelli con il nostro ingegno Allora rimaniamo bloccati al primo livello Molto probabilmente, e molto probabilmente resteremo chiudi Nella prima stanza per sempre Ed eccoci qua Questo è uno di quei giochi che dovremmo fare in una live streaming Perché così almeno nei commenti ci dicono tutto quello da fare E va meglio Allora, allora, siamo in un soggiorno Molto bellino, c'è una buona illuminazione È redatto bene Noi credo che dobbiamo trovare il modo di aprire questo ascensore Esattamente Vedi che ha una chiave Serve una chiave Quindi dobbiamo trovare la chiave Ok, un cacciavite per aprire questo, vedi? Ok, torno indietro Guarda nel mobiletto, nel mobiletto se si può aprire Ok Allora, dobbiamo fare questo puzzle Ok, vai Mi devi dare una grossissima mano Perché io con i puzzle sono scarso Ah, almeno si può zoomare Si possono anche girare i tastelli, sì Ovviamente Ma forse è solo girarli Ok Sì, è solo girarli Ok Allora è semplice Allora non sono così scarso Questo è storto Ok Anche quello Ok Quasi fatto, quasi fatto, quasi fatto Ci siamo, ci siamo Dopo che credo che si apra questo forziere E dentro magari c'è già la chiave Ok Cos'abbiamo trovato Eh, cos'è secondo te? Una maniglia Una specie di maniglia, sì Una maniglia che potremmo utilizzare Questo mobiletto, questo mobiletto dove c'è il vaso Vai Cos'ha? Vedi la maniglia Una nove Eh 1915 Ok Eh, quanto sono bravo Mi stavi già criticando Invece guarda tu Quattro Nove E poi tre Ok Torni indietro Ok E si apre Ok Cos'è? Una manopola, una maniglia Penso che sia una sorta di maniglia Lì sicuramente, sì Nel rubinetto Ah, ok Come vanno alla grande Una chiave? Ma abbiamo già fatto? No, perché c'è un codice Vedi, ci serve un pass Un pass Ok Qui c'è solo questo Quindi no Allora guarda il mobile Il mobiletto La chiave La chiave Ok Il pass E stiamo andando alla grande Ma stiamo andando benissimo Bravi Secondo livello andato Quanti livelli saranno? Ne abbiamo idea? No Vabbè Allora Continuiamo Allora fammi vedere cosa serve per aprire l'ascensore Certo Una chiave Chiave Quindi almeno abbiamo subito a mente quello che dobbiamo trovare Questo oggetto è molto strano e lo prendo Ok Ok Poi da queste parti Delle auto Non possiamo fare nulla Già è una cosa Però secondo me è una sorta di indizio Vero? Perché non mi sembra che siano messe lì a caso Giallo Blu Rosso Verde Giallo Proviamo a memorizzare i colori Magari servirà qualcosa No PC spento Molto strano questo livello Sopra non posso cliccare Armadio Che cos'era? Questo è per accendere il PC Per accendere il PC Ok Fammi vedere la parte di sopra Non c'è nulla No si ho preso una specie di maniglia strana Una manopola strana Ok Si sta facendo già più complicato Allora proviamo ad ascendere il PC E vediamo che succede Non abbiamo una password Com'era? Giallo? Mi ricordo che il secondo era blu Ok Rosso e verde Verde Stiamo andando molto a caso Ok adesso Su Destra Centro Destra Centro Destra Centro Destra E quindi? Centro Destra Centro Destra Che servirà sicuramente qua Lì Lì Centro Destra C'è Destra Centro E destra La manopola La manopola La manopola Ah bravissima E questa è la chiave per uscire? Si E quindi quel primo oggetto non ci serviva a nulla Posso dire una cosa? La parte che mi ha stupito di più è che ci siamo ricordati la combinazione delle macchinine Io mi ricordavo solo blu Ma io sono andato molto a caso Io mi ricordavo solo blu Io personalmente sono andato molto a caso Pensavo di aver sbagliato Andata Andata Yeah Vai Perfetto Perfetto Questo è stato il più figo per ora Allora quindi Terzo livello fatto Sì molto più particolare Quarto livello Ok Qua c'è subito un pacco molto particolare Ci serve qualcosa per rompere questa corda Sicuramente Quindi forbici Qui ci serve qualcosa per aprire questo Ok L'ascensore come si apre scusami? Aspetta ho preso un oggetto strano Hai preso una secca Sì ho notato anche io che l'ascensore ha qualcosa Vedi che Ok Ok È una chiave diversa Particolare sì Nella pizza c'è qualcosa? No Il frigo non possiamo aprirlo Uh Mamma mia No No Non è per questo Tavolino non c'è nulla Questo è complicato Non vedo niente Allora ho notato che ci sono delle bottiglie con dei colori Ah ecco Ok Aspetta Aspetta Rosso? No Blu Rosso Gelleva Rosso Blu 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 Rosso Rosso Giallo È verde È verde Ok Ok E abbiamo preso un oggetto Servirà qui Questo per aprire Sì O servirà nell'altro Servirà qui E non c'è nulla Credo No non c'è nulla Forse nell'altro Aspetta Forse è combinato a questa cosa Fammi vedere un pochettino Uh Un coltello Il coltello a cosa ci può servire? Per aprire il pacco Giusto 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 Torcia Torcia per vedere nel buco È seriale Mamma mia ma bisogna combinarsi tantissimo no? Non è per vedere qua Non è possibile Guardate cosa abbiamo trovato dopo che abbiamo cliccato per due ore tutta la mappa Cioè cercavamo di accendere il cinquanzesimo ed invece ci volevano giustamente le batterie Batteria, la batteria nella torcia Ok Adesso andiamo a vedere cosa c'è in quel buco Guarda tutto mi aspettavo tranne che mancava la batteria E vedi è più complicato però Ed ecco le chiavi Ed ecco le chiavi Che non possiamo Con quello Con quello con la stecca Sì bellissimo mamma mia Non ti emozionare Non ti emozionare Certo che mi emoziono Siamo due ore qua che cercavamo di capire cosa succedeva Livello 4 finito No scusami Lasciami in pace Ok Allora Guarda qua per andare Ma che cos'è la NASA questa roba? Allora inizia Semplicissimo capito? Per farti infogare E poi dopo un po' diventi scemo Per farti capire No dai Magari sei anche intelligente Qua c'è un uccellino che tiene una chiave E ci servirà un modo di prendere questa chiave Sì ma ti fanno sentire stupido sti giochi Capito? Ti fanno sentire stupido Perché sei due ore così No no Per prendo questa faccia Con questa faccia qua E poi non riesci a capire le cose Noi siamo super intelligenti Allora Allora Quando dormiamo Eh vabbè ma qui è pieno di No aspetta aspetta Mi sto confondendo Allora proviamo a fare una cosa Vai lì Vai lì Io me ne vado L'ho capito vai Qui Sì Ok Metti tipo rosso con rosso Capito? Capito quello che ti dico? Cioè così Esatto Poi questo è giusto Rimetti rosso E questo viola combacia con questo viola Mi sembra giustissimo Sì E perché non va? Assoluto Sei stata fenomenale Allora Era giusto così Fammi Eh vabbè ma pure due fanze qua Ma siamo pazzi Allora Block notice vuoto Troppo complicato Allora Qua c'è qualcosa Una lente a contatto Credo che sia Che potremmo utilizzare per superare tipo le cose I Colori I colori Allora qui Allora da bravi detective Sai di che cosa abbiamo bisogno? Sì Di un block notice per prendere appunti C'è troppa roba vero? Non ci ricordo No 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 Io posso andarmene È difficilissimo Posso andarmene Io davvero ho bisogno di un block notice per segnarmi dei colori Perché hanno fatto un altro colore? Lente a contatto Ok sì grazie Torniamo indietro Noi abbiamo due colori I due colori si posizionano qua Ok Lascia fare Lascia fare che non ci serve neanche il block note Hai uno staff magnifico Wow Con gli semini Noi andiamo dal miciopio E ci prendiamo la chiave Grazie Grazie per averci dato la chiave La chiave La utilizziamo per aprire Mi sto confondendo Per aprire La chiave la utilizziamo per aprire Ehm Vedi che c'è anche il vaso Mi hai capito no? È molto scontato Sì Riguardo a questa cosa Questo ad esempio che cos'è? Questo? Mmh No va bene Incomprensibile Due No no Fino a quando Totalmente incomprensibile Abbiamo analizzato tutto Queste freccette ancora non capisco cosa servono Credo che però ci indicheranno 5, 4, 8 Ok E fin qua ci siamo Dopodiché stavamo pensando che magari questa cosa poteva essere collegata a questo Però sono numeri diversi Anche questo con i vasi sono numeri diversi Ma che numeri? Che stai dicendo? Però però ascoltami Ascoltami Ok Ci siamo? Tu ascolta me No no stai dicendo cose incomprensibili in questo momento Nel senso che questi sono 4 Questi sono 6 Eh ok Ok Però questi sono 4 E questi sono 4 Ok Ok Quindi se noi facciamo come primo colore Il colore che ha questo Magari ci sblocca quella cosa Quindi rosa Celestino Nero e bianco Ok Rosa Celestino Celestino Eeeh Nero Eeeh Ok Ok Una matita Una matita Ok Io mi aspettavo qualcosa di un po' più eclatante Tra tutte le cose che ci potevate dare ci avete dato una matita Allora nella matita sicuramente il block notice Probabilmente strascina la c'è qualcosa scritto Vedi? Capito? Sì Come nei film che tu strascini e vedi quello che è stato scritto Vabbè come questo gioco è fatto troppo bene Fantastico Mi esalto e mi deprimo al stesso tempo perché poi ci vogliono due ore ogni volta Però almeno E poi lo scopri e fai Oh mio Dio era bellissimo Però l'importante è che ci riusciamo Ecco vedi è la forma che ci serve per quello Ok Vedi vedi Fai bene qua Alto, medio, basso Alto, medio Allora No è alto, medio, basso, basso, medio, alto Ma che stai Alto, medio, basso, alto, medio, alto No lo vedi che Questo è alto Ah ok non lo vedevo bene Mi sembrava basso Se si hai ragione Quindi alto, medio, basso, alto, medio, alto Oddio Non mi ricorderò mai Alto Allora Alto Alto, medio, basso Alto Alto, medio, alto Ok seconda chiave è andata Siamo bravissimi Secondo me abbiamo finito Mi sto esaltando Siamo bravissimi Secondo me abbiamo finito Nel senso Una Due Allora E Quattro Cinque Otto Quattro Cinque Otto No vedi che dobbiamo fare un'addizione Ci sono quei colori che corrispondono a dei numeri Ah Quattro Cinque Otto Più uno Due Nove E quindi Cinque Eh ma penso che lo devi mettere Nove Più cinque Fa Quattordici Quindi Quattro Due Più quattro Sei Però si approssima di uno Quindi Sette E poi nove Speriamo Ok ok Alleluia Clicca Ah no Fatto Mamma mia quanto ci abbiamo messo Publicità Quanto ci abbiamo messo Comunque ci fermiamo così Speriamo che vi sia piaciuto questo video È ovviamente una tipologia di gioco dove ce ne sono tantissimi Io li adoro Io li adoro Mi piace ragazzi ne abbiamo tantissimi da fare potrebbe essere proprio una super serie dove ne portiamo davvero tanti quindi speriamo che vi piace Io mi sono davvero divertito è qualcosa di particolare diverso di ingegnoso insomma è qualcosa che nel canale in questo momento non c'è e che secondo me è molto piacevole da giocare Speriamo anche da vedere Riguarderemo noi stessi il video per vedere se è divertente anche da vedere Sto facendo un monologo per chiudere Eh sì Eh sì Ti stai infagando Perché sono felice Sono felice abbiamo fatto sei livelli difficilissimi No i primi guarda sono semplici tu dici Oh dai che bello li so fatti tutti poi zack Devi rimanere così che non ci capisci nulla però è bellissimo è bellissimo Bene che ci riesco se stessi 116 e mi like E se è la prima volta che avete un nostro video potete considerarli Da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 ciao